8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1 e... 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un applauso al Simone! Vai! Quattro, quattro, cinque, cinque, sette, cinquantà doze, l's no, sessanta! Sessanta panneggi per timore, bravissimo! Della terza possibilità, vai! Uno, una volta, lì! No, 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 no! No, 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 no! No, no! Noi! Sì! Noi! Noooo… Alla prossima. la mia voce Grazie a tutti. Grazie a tutti.